Vi faccio poi un complimento in particolare per il titolo. Il mio nome non ha importanza, può sembrare una semplice frase a effetto, invece nasconde un significato cruciale che certamente voi avete colto. Tutto ciò che di più bello e importante facciamo nella vita, non lo facciamo per ambizione personale, non lo facciamo per l'Io e dunque non lo facciamo a nome nostro, per darci importanza, per sentirci qualcuno.